Quando si pensa ai bambini, si pensa di donare ai bambini, la gioia è sempre doppia? Sì, indubbiamente. Poi, fra l'altro, è un dono particolarmente significativo di quelli che dovrebbero lasciare il segno nell'ambito delle problematiche tipiche di un paziente. Un bambino che cresce e che è costretto a stare in ospedale almeno ha un forte segno del libro, che è il tradizionale elemento di sicurezza nella crescita e nella maturità. I libri hanno le ali. Si conclude con la donazione al Policlinico Riuniti di Foggia, l'iniziativa di promozione della lettura in contesti fragili realizzata dalla Fondazione Montiuniti di Foggia, in collaborazione con il CSV Foggia e con il coinvolgimento delle librerie del territorio. Con i libri hanno le ali, a partire dal 2020, sono stati donati centinaia di testi, manuali e dizionari agli istituti penitenziari di Capitanata, alle comunità educative di San Giuseppe di Foggia, alle Caritas di Cerignola e Borgo Mezzanone e agli insedimenti informali di cittadini migranti presenti sul territorio. Oggi concludiamo con questa donazione al reparto di neuropsichiatria infantile una iniziativa che ha riguardato diverse categorie fragili. La concludiamo dopo molto tempo, molti rinvi dovuti alla pandemia, ma è dalla pandemia che l'idea in fondo è nata. Noi in una situazione in cui tutti soffrivamo per l'isolamento, per le misure restrittive, abbiamo la consapevolezza che soffrivano ancora di più determinate categorie, ancora più isolate, i bambini delle case famiglie, gli immigrati negli insediamenti informali, la popolazione carceraria e poi soprattutto i degenti e in particolare i degenti in teneretà. Siccome siamo convinti del valore appunto terapeutico da un lato della lettura, ma anche la capacità della lettura di spezzare le catene dell'isolamento, abbiamo investito diverse migliaia di euro in questa iniziativa, raggiungendo come potevamo queste comunità. Grazie.